Un bel vedere atipico, quello del deposito dei cassonetti in via Rochester. Attualmente i vecchi contenitori della raccolta rifiuti sono stati collocati da tempo su un terreno confiscato affidato al comune di Caltanissetta. Inizialmente erano stati messi all'interno di un impianto privato per il quale l'amministrazione avrebbe affrontato il pagamento di un affitto dell'area utilizzata come deposito. Così, ci spiega l'assessore ai lavori pubblici all'ambiente Marcello Frangiamone, per evitare un sborso di danaro inutile sono stati portati e collocati sul terreno in via Rochester in attesa di smaltimento o di trovare una soluzione di riuso. Infatti alcuni di questi, precisa l'assessore, sono stati utilizzati per alcune particolari criticità o in sostituzione a cassonetti non più in stato ottimale. L'obiettivo dell'amministrazione pare quindi essere chiaro, togliere definitivamente la catasta di cassonetti, tuttavia i tempi di intervento ancora non sono stati stabiliti e sono ancora in via di definizione.